Musica Chiusa la campagna elettorale da oggi stoppa la propaganda, domani si vota. 50 comuni pugliesi vanno al rinnovo del Consiglio Comunale, urne aperte dalle 7 alle 23 in turno unico, si vota anche per il referendum sulla giustizia. Prima uscita pubblica a Bari per il neopresidente della conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi, il metropolita di Bologna ribadisce il ruolo del capoluogo come ponte, anche la solidarietà spinge alla pace. E' stato assassinato Donato Montinaro, l'anziano di 75 anni trovato morto stamattina nella sua billetta a Castri di Lecce. Sul cadavere sono state riscontrate ferite da arma da taglio. Ancora insieme per un nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna Sud, ben ritrovati in apertura una breaking news appena battuta dalle agenzie. Dopo la segnalazione dell'unità malattie infettive del presidio ospedaliero Moscati, l'ASL di Taranto ha identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie sul territorio provinciale. Il secondo in tutta la Puglia, il paziente riconosciuto un quadro clinico riconducibile a tale patologia, ha segnalato spontaneamente la sua situazione ed è stato sottoposto ai prelievi necessari a dare conferma di laboratorio. Il Dipartimento di Prevenzione ha già svolto l'indagine epidemiologica e attivato le azioni di sanità pubblica previste allo scopo di prevenire eventuali casi secondari. Il paziente al momento è in isolamento domiciliare, in buone condizioni generali di salute. Andiamo al tema invece di apertura, ovvero quello delle comunali. Oggi è il giorno del silenzio, prima dell'Election Day, 50 centri coinvolti in tutta la Puglia, 18 dei quali a doppio turno. Primo spoglio dedicato al referendum è Taranto e Barletta tra le città capofila, ci dice di più Antonio Bucci. 50 centri coinvolti, 18 dei quali a doppio turno, se non dovesse bastare un solo giro di giostra da segnare la fascia tricolore e silenzio prima del gran finale delle comunali. Election Day solo nella giornata di domenica, se già aperti dalle 7 alle 23 per 5 quesiti referendari sui temi della giustizia, il cui spoglio avverrà già nella notte, il cui primo termometro sarà il raggiungimento o meno del quorum per dichiararne l'efficacia e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 comuni in tutta Italia, Puglia compresa appunto, che conoscerà il risponso del pallottoliere nella serata di lunedì, aprendo gli scatoloni alle 14. Tornata ancora in versione antivirus, seggi mobili negli ospedali e possibilità di voto per chi dovesse essere in quarantena, ma senza più l'obbligo di mascherina ai seggi, che pure resta fortemente consigliata. Teste di serie restano Taranto e Barletta con le sfide a quattro, rispettivamente tra Melucci, Musillo, Abate e Battista e poi Cannito, Scommegna, Doronzo e Carone. 11 centri nel Barese, il più popoloso è Molfetta, quello più piccolo San Michele, ma sarà avvicendamento anche a Bitonto, Santeramo e Gravina. Sul fronte ionico si chiude l'era di Franco Ancona a Martina Franca, nel Salento occhi puntati sui risultati di Galatina. E c'è l'ombra del mancato quorum dietro questo referendum, probabilmente complice la bella giornata. Sembra davvero una mission impossible il raggiungimento del quorum del 50% più un elettore per il referendum sulla giustizia di domani. Urne aperte dalle 7 alle 23, un miraggio risultato da raggiungere per i comuni che non sono chiamati all'elezione del primo cittadino. C'è chi nelle ultime giornate ha lanciato una mobilitazione generale con gazebo, incontri e dibattiti nelle piazze italiane, ma sembrerebbe con scarsi risultati. Insomma, tutti sembrano aver dato poco spazio a questo appuntamento referendario. Scarso interesse, poca comunicazione, nessuna curiosità. Ad aggravare l'affluenza alle urne di domani potrebbe essere il sole. Dopo giorni di piogge abbondanti, sembra che nella giornata di domenica tornerà il sole con la colonina di mercurio pronta a salire e spingere le persone in riva al mare. I mari non saranno però calmi, molto mosso agitato l'adriatico, poco mosso lo ioni a largo, quasi calmo sotto costa. Quel che è certo che la matita sarà la compagna indiscussa di domenica. Qualcuno la userà per apporre le 5X ai quesiti referendari, qualcun'altro invece, per farci un bel sudokuo cruciverba in riva al mare. PNRR foggia rafforza il sistema di prevenzioni e contrasto dei possibili interessi criminali attraverso dei protocolli di intesa siglati dal Comune e dalla Provincia con la Guardia di Finanza. Antonella Davola. L'attuazione del PNRR prevede un impegno sfidante per gli enti territoriali chiamati ad un importante sforzo per la gestione delle risorse più cospicue mai destinate alla spesa pubblica che rappresentano un'occasione unica per rilanciare il territorio. In tale contesto, per implementare la collaborazione reciproca e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse e dei piani, il Comune di Foggia, così come anche l'amministrazione provinciale e la Guardia di Finanza, si sono impegnate a siglare un protocollo di intesa per attuare una stretta sinergia infoperativa per prevenire e segnalare illeciti e violazioni sulle opere finanziate con le risorse del PNRR, dando così concreta attuazione alle linee guida stabilite a livello europeo e nazionali per vigilare le delicate fasi di attuazione delle diverse progettualità finanziate con risorse europee e nazionali. Grazie al protocollo, l'attività di monitoraggio del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia potrà giovarsi dell'impegno assunto dal Comune e dalla provincia a fornire informazioni e notizie circostanziate raccolte nella fase di esecuzione del contratto e ritenute utili alla prevenzione e alla repressione di eventuali illeciti in tale specifico settore, in particolare interesse delle parti firmatarie, implementare un tempestivo flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, quale forza di Polizia economico-finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale e dell'Unione Europea, al fine di contrastare ogni caso di corruzione, conflitto di interesse, doppi finanziamenti, indepita aggiudicazione e o percezione di risorse finanziarie pubbliche, frode nell'esecuzione di contratti pubblici e ogni altra attività illecita, posta in essere con riguardo all'utilizzo delle risorse finanziarie erogate dall'Unione Europea. Cambiamo argomento, prima uscita pubblica a Bari per il neopresidente della conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi. Il metropolita di Bologna ribadisce il ruolo del capoluogo come ponte, anche la solidarietà, dice, spinge alla pace. Se mandiamo qualche cosa dobbiamo mandare il doppio di sforzi di pace e su quello credo che forse c'è ancora tanto da fare e che varia tante possibilità, pensando al suo santo patrono e quanto anche importante della Russia e tra i cristiani dell'Oriente, e pensando al luogo, al tanto accumulo storico di culture, di sapienza, a certo bisogna provare a fare tutto il possibile. L'appello alla pace e alla consapevolezza arriva da Bari e porta la firma del cardinale Matteo Zuppi, metropolita di Bologna, alla sua prima uscita pubblica da presidente della conferenza episcopale italiana. L'occasione sono i due giorni di riflessione su etica e religione, di Lector Incontri, un modo per ribadire il ruolo di ponte della Puglia, l'approccio sinodale della Chiesa e l'invito alla solidarietà. Bari e la Puglia si candidano ad essere un luogo di dialogo, riprendendo il discorso di Giorgio Lapira di tanti anni fa, che vedeva proprio nel mare nostro, nel mare mediterraneo, quel punto nevralgico dove popoli, culture e civiltà hanno la possibilità di incontrarsi e di dialogare. Abbiamo il dovere di farlo, ciascuno nel proprio ruolo, ciascuno per la propria competenza, proprio per lanciare un messaggio di pace. In questo momento particolare, dove ci sono tante guerre nel mondo, ma stiamo vivendo molto da vicino la guerra in Ucraina. Le vicende dell'Ucraina, questo scontro durissimo nel cuore dell'Europa, dimostrano che bisogna mobilitarsi per la pace. La pace non è un dono che cade dal cielo, la pace si ottiene a un prezzo durissimo. La cronaca è stato assassinato, secondo gli inquirenti Donato Montinaro, l'anziano di 75 anni, trovato morto stamattina nella sua villetta di Castridi Lecce, sul cadavere, sono state riscontrate ferite d'arma da taglio. Sentiamo Paolo Franza. Trovato morto in casa, legato ad una sedia incappucciato, è mistero a Castridi Lecce, dove Donato Montinaro, di 75 anni, fa legname in pensione, molto conosciuto in paese, è deceduto probabilmente nella notte. Il corpo esanime è stato trovato all'alba dalla donna delle pulizie. Una volta entrata in casa, l'uomo viveva con la figlia di Sabile, di 48 anni. Non sono stati rilevati segni di effrazione. Probabilmente Montinaro conosceva il suo assassino. Sul corpo sono state trovate delle ferite d'arma da taglio, quasi sicuramente è stato assassinato. L'uomo, legato alla parte bassa di un tavolino, aveva mani e piedi bloccate da fascette da elettricista e le gambe immobilizzate da nastro da imballaggio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dei carabinieri, l'uomo, trovato con i pantaloni abbassati e un pannolone, pare non usato per necessità, aveva precedenti penali per violenza sessuale, furto e lesioni personali. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Calimera e i colleghi del reparto operativo che hanno delimitato l'area e avviato i rilievi. Sulla scena del crimine anche il colonnello Paolo Demben che il pubblico ministero Maria Consolata Moschettini si scava nel passato dell'uomo al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Nuova intimidazione ai danni di Lazzaro Dauria, imprenditore sotto scorta dopo aver denunciato richieste sorsive da parte della criminalità organizzata foggiana in fiamme, un terreno coltivato a grano che si trova a una decina di chilometri dal capologo Dauno all'incoronata. Dauria ha ricevuto la notizia mentre si trovava in Campania, sua regione di origine. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia a limitare i danni, l'intervento degli addetti della stessa azienda agricola che con i trattori hanno creato un ampio solco nel terreno. in base a quanto dichiarato da Dauria sarebbero andati distrutti più di 15 ettari di terreno per un danno di almeno 300 mila euro. E invece è fallito il tentativo di rapina effettuato venerdì sera in una gioielleria del centro commerciale Appia Antica di Mesagne. Siamo nel brindisino determinante e la reazione delle commesse che hanno azionato i fumogeni. Gianmarco Di Napoli. In un attimo la gioielleria si è trasformata in una cortina di nebbia mentre le saracinesche venivano giù rapidamente e stavano per chiuderli in trappola. I tre banditi che venerdì sera hanno fatto irruzione da follie d'oro nel centro commerciale di Mesagne sono stati costretti a battere la ritirata senza riuscire a portare via neanche un braccialetto. Determinante è stata la reazione delle due commesse che hanno attivato subito il modernissimo sistema antirapina. Erano le 20 e 22 e i colleghi della sicurezza hanno visto delle moto che arrivavano molto velocemente su un'uscita di sicurezza adiacente agli uffici di direzione hanno immediatamente capito di che cosa si trattava e di conseguenza hanno allertato le forze dell'ordine. La porta era chiusa ma è stata forzata dai tre motociclisti con due moto con un piede di porco si presume è stata forzata e sono entrati nel corridoio percorrendolo correndo e sono entrati con effetto immediato nella gioielleria dove c'erano presenti anche dei clienti che acquistavano. Le ragazze del punto vendita sono state molto molto brave a far partire con effetto immediato l'antintrusione quindi di conseguenza è partito il nebbiogeno e tutto l'iter che comporta il discorso di sicurezza della gioielleria. Sul posto sono intervenuti pochi minuti dopo i poliziotti del commissariato di Mesagne che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza all'interno e all'esterno del centro commerciale. Già nei giorni scorsi alcuni motociclisti erano stati notati muoversi con fare sospetto nel parcheggio. Probabilmente stavano effettuando un sopralluogo. Fino a 27 anni di reclusione per tratta e riduzione in schiavitù è quanto ha chiesto la DDA di Bari nel processo contro le due organizzazioni mafiose all'interno del CARA, del capoluogo organizzazioni sgominate nel dicembre del 2019. 24 condanne appena fino a 27 anni di reclusione è quanto ha chiesto la DDA di Bari nei confronti di altre tanti presunti componenti di due gang nigeriane organizzate come sette segrete dalla struttura militare e dalla inaudita ferocia accusate di aver gestito per anni all'interno del centro di accoglienza per richiedente asilo di Bari il racket della prostituzione di donne connazionali vittime di tratta e l'accattonaggio di mendicanti utilizzando riti voodoo, pestaggi e accoltellamenti. I due gruppi criminali ritenuti mafiosi secondo l'accusa avevano organizzato la loro base nel CARA e operavano soprattutto nel quartiere Libertà. Le indagini della squadra mobile del capoluogo partirono nel 2016 dalla denuncia anonima di alcune presunte vittime accertando che lo sfruttamento della prostituzione sarebbe stato la principale attività di arricchimento dei due clan sulla base della regola delle 3D donne, denaro, droga con le donne costrette a sottomettersi con violenza fisica e psicologica e considerate oggetti fabbrica soldi. Stessa violenza sarebbe stata riservata ai mendicanti costretti a pagare il pizzo sull'elemosina per garantirsi una postazione davanti ai supermercati di Bari e provincia. Per arrollarsi nelle gang gli aspiranti adepti hanno documentato gli investigatori dovevano sottoporsi a prove di coraggio con le mani legate incappucciati picchiati dagli affiliati anziani e costretti a bere una bevanda composta da sangue umano e alcol quale segno di fedeltà sino alla morte con punizioni corporali nei confronti di chi si rifiutava di affiliarsi o di pagare la periodica retta di appartenenza e di prostituirsi. Gli imputati, tutti arrestati nel dicembre del 2019 erano stati ospiti del CARA fino a un anno prima. Condanne con rito abbreviato per i presunti componenti della cupola che gestiva il traffico di droga nelle province di Taranto e brindisi 20 anni per i presunti promotori. Michele Iurlaro. La droga innanzitutto approvvigionata, gestita e poi venduta nelle piazze secondo uno schema ben preciso una organizzazione peraltro dei metodi mafiosi. Dopo gli arresti del 14 ottobre 2020 sono arrivate le condanne per i presunti componenti della cupola un'associazione che prima secondo l'accusa e ora secondo il gruppo del Tribunale di Lecce gestiva il traffico di sostanze stupefacenti tra le province di Taranto e brindisi ma non solo negli affari della cupola anche rapine e distorsioni una sorta di mafia silente come la definirono gli inquirenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Lecce e dalla questura di Taranto sono state cristallizzate nel conto presentato dalla giustizia a margine del rito abbreviato condanne alleggerite dalla scelta del rito eppure pesante specie per i presunti promotori del sudalizio. Il giudice ha condannato a 20 anni di reclusione Giovanni Caniglia Nazareno Malorgio e Walter Nodeo tutti i manduri a ritenuti membri del direttivo cioè della cupola coinvolto anche il francavillese con residenza oritana Pierluigi Chionna ritenuto però semplice acquirente e venditore della sostanza e quindi estraneo all'associazione per lui solo 8 anni e 2 mesi di reclusione. Cambiamo decisamente argomento gli ingenti danni provocati dal maltempo negli ultimi giorni hanno piegato gli agricoltori Tarantini a Lizzano si invoca lo stato di calamità Laura Milano Le immagini parlano da sole interi raccolti distrutti siamo a Lizzano nel Tarantino vigneti in cui non è rimasto nulla la grandine dei giorni scorsi ha colpito come proiettili anche gli alberi di olivo poi una piantagione di angurie e questo è ciò che rimane un anno di lavoro tanto lavoro per niente diciamo se dovesse quantificare economicamente il danno beh qui siamo sui passati millequintali a ettaro la mattina avevamo caricato il primo viaggio a 50 centesimi al chilo i letteri di terreno coltivato con tanti sacrifici che è stato distrutto ma distrutto non solo per quest'anno ma anche per i prossimi anni perché una vigna come questa che in realtà ha subito questo danno non si riprende per il prossimo anno siamo molto vicini ai contadini abbiamo quindi fatto un atto di giunta proprio come calamità per sottolineare alla regione Puglia quanto sia stato distruttivo questo evento per Lizzano e speriamo di poter diciamo non dare completamente totalmente un risarcimento agli agricoltori ma perlomeno dare un qualcosa che possa dargli la possibilità di ricominciare e dare una speranza per il futuro ancora di ambiente per ospitare i rigassificatori offshore la scelta ricade su Ravenna e Piombino Brindisi è esclusa e c'è chi parla di occasione mancata Davide Cucinelli Scelti Ravenna e Piombino per ospitare i rigassificatori offshore una notizia che ha riaperto il dibattito in Puglia ed in particolare nel territorio brindisino per la sua mancata candidatura con i favorevoli a questo insediamento che sperano in un esito futuro positivo per candidare anche Brindisi ed un porto pugliese per la presenza di un rigassificatore offshore per noi la speranza non è perduta noi continuiamo a lavorare come Confindustria per cercare di portare il rigassificatore qui anche offshore a Brindisi noi dobbiamo cercare di impegnarci fino alla fine perché crediamo in questo territorio crediamo nelle nostre imprese in tutte quelle che sono le filiere organizzate su questo territorio e pensiamo soprattutto che il porto di Brindisi sia il porto adatto anche per accogliere questo tipo di investimento sono mesi che vado dicendo candidiamo i porti pugliesi a prendere queste infrastrutture energetiche pulite e compatibili con l'ambiente peraltro dopo anni che ci hanno dato invece le infrastrutture produttive non pulite e nocive anche a compensazione invece nulla un silenzio assordante naturalmente se non ti candidi se non sgomiti e ci sono altri che chiedono queste infrastrutture il governo nazionale non ha solo interesse a preferire chi invece fonda tutte le sue politiche su un rumoroso decrescitismo e un no a tutto spero che dopo i primi due ce ne possano essere degli altri e arrivi anche in Puglia la possibilità di utilizzare queste infrastrutture ripeto per la prosperità per la sicurezza ambientale e anche per la pace stazioni abbandonate preda di vandali una triste immagine per i turisti che arrivano qui in Salento soppressione di passaggi a livello automazione e miglioramento della sicurezza aria salentina e la targhetta fissa in alcune stazioni ferroviarie salentine siamo stati in quelle non più presidiate dal capo stazione va bene l'ammodernamento il progresso ma serve anche l'accoglienza per il turista che arriva nel Salento e che vorrebbe ricevere le indicazioni per raggiungere la località scelta alcune stazioni infatti non sono nei centri abitati e necessitano di ulteriori collegamenti spesso assenti ci siamo imbattuti nella sala di attesa di una stazione abbandonata restando anche chiusi all'interno scoprendo che alcune sono anche preda di vandali avventori per chissà che cosa e come se non bastasse notiamo che c'è qualcuno pagato da chissà chi che effettua quotidianamente la sanificazione sì ma di cosa essendo tutto chiuso al pubblico compresi i bagni un'altra storia triste tutta italiana primo premio nazionale di welfare a Levante il riconoscimento va alla scienziata barese Luisa Torsi l'area del vino è un premio veramente speciale perché la Torsi è una donna una barese è una scienziata in più una grande umanità infatti questo premio come un altro premio che ha ricevuto da poco verrà devoluto a un progetto welfare della città di Bari perciò insomma si esprime la grandiosità di questa donna di questa ricercatrice in particolar modo all'interno di laboratori pre-professionalizzanti per donne va alla professoressa Luisa Torsi il primo premio nazionale welfare a Levante l'omonima associazione che rappresenta RSA ai centri diurni del territorio pugliese ha scelto la scienziata non soltanto per il pregio delle sue ricerche ma anche per le qualità umane è un premio legato alla ricerca e lei la incarna perfettamente con nuovi progetti che segneranno una svolta decisiva per quanto riguarda la diagnosi c'è una volontà politica molto chiara di Regione Puglia e del Presidente Emiliano di supportarci per farci fare il penultimo miglio quello che non abbiamo mai percorso prima d'ora e che porta il nostro dispositivo fuori dal laboratorio in clinica per fare diagnosi su casi reali quindi su pazienti è una cosa estremamente sfidante ma abbiamo voglia di farlo perché vogliamo capire fino a che punto possiamo spingerci l'evento di premiazione si è svolto nella sala convegni dello spazio miurà di Bari alla presenza delle istituzioni e autorità civili e militari il premio nel solco delle linee guida tracciate in seno al proprio consiglio direttivo è volto a consolidare il legame con personalità del territorio che si sono particolarmente distinte nel campo della ricerca e intensificare rete e dialogo tra istituzioni e categoria delle strutture sociosanitarie di assistenza a fragili e anziani la rivisitazione del sistema welfare del sistema sociosanitario necessita del supporto della ricerca della telemedicina e noi auspichiamo che le istituzioni siano al nostro fianco sicurezza sul lavoro l'appello dei sindacati leccesi occorrono più controlli Maria Teresa Carrozzo il problema della sicurezza sul lavoro ed in particolare nei cantieri continua ad essere un nodo da sciogliere secondo i sindacati che ritornano sull'analisi della questione purtroppo da troppo tempo diciamo che è un'urgenza è una priorità e bisogna comunque che mai in nessun momento si abbassi la guardia rispetto a questa tematica che è di vitale importanza se non si lavora in sicurezza e quindi non si consente al lavoratore di ritornare a casa dopo che è uscito la mattina e stiamo parlando insomma di una sconfitta per tutti quanti sicuramente insistere sul tema dell'informazione la prevenzione è quello che tentiamo di fare con la nostra azione quotidiana come organizzazioni sindacali non solo la sottoscrizione del protocollo importante in prefettura che c'è stato qualche settimana fa che ha coinvolto tutti i soggetti interessati ma un'azione quotidiana di informazione anche attraverso i nostri rappresentanti dei lavoratori della sicurezza che ogni giorno anche nelle piccole imprese arrivano cercando di parlare informare i lavoratori sul tema della prevenzione che li coinvolge direttamente perché comunque interessa anche quella che è la loro quotidianità per cui insistere e provare ad aumentare anche sul fronte dei controlli provando a coinvolgere e a intensificare l'ospettorato del lavoro sulle visite quotidiane appunto sui cantieri edili un'azione sinergica un'azione più forte e incisiva da parte di tutti insomma un breve break pubblicitario e dopo torniamo con un approfondimento sulla notizia di apertura il primo caso di vaiolo delle scimmie nel Tarantino il secondo in Puglia a tra poco e allora come vi dicevamo torniamo sulla notizia di apertura di quest'oggi ovvero il primo caso di vaiolo delle scimmie nel Tarantino il secondo in tutta la Puglia dopo quello di Bari scoperto nel Barese solo tre giorni fa la nostra Maria Teresa Carrozzo ha raggiunto il direttore del Dipartimento Prevenzione Salute della ASL di Taranto vediamo cosa ci ha detto in seguito ad una segnalazione dell'unità operativa complessa di malattie infettive del presidio ospedaliero Moscati la ASL di Taranto ha identificato il primo caso confermato di vaiolo delle scimmie sul territorio provinciale il paziente ha riconosciuto un quadro clinico riconducibile a tale patologie ha segnalato spontaneamente la sua situazione ed è stato tempestivamente sottoposto ai prelievi necessari a dare conferma di laboratorio sia la parte diciamo sanitaria vera e propria quella di malattie infettive sia la nostra epidemiologica di controllo di verifici e di indagine epidemiologica avevamo seguito fatto dei protocolli seguitosi alle circolari ministeriali che quelle prontamente anche emanate dalla regione Puglia quindi avevamo fatto anche della formazione il nostro personale quindi non siamo stati naturalmente colti impreparati e ce l'aspettavamo e quindi le cose vanno assolutamente bene la persona sta bene è seguita l'indagine è stata anche fatta sono state mandate le comunicazioni in regione al ministero quindi nessun problema assolutamente possiamo tranquillizzare la popolazione ci sono delle indicazioni che possiamo dare anche di precauzione ai nostri telespettatori ma le indicazioni sappiamo essere una malattia che si ha bisogno di un contagio diretto quindi diretto in alcuni casi è una malattia sessualmente trasmessa quindi le precauzioni sono soprattutto per chi viene dai paesi in cui ci sono dei cluster e ci sono più casi che sono i paesi africani in qualche modo anche la Gran Bretagna quindi al primo comparire di manifestazioni pustolose bisogna rivolgersi naturalmente al proprio medico o al reparto di malattie infettive dal più vicino ospedale 26 associazioni in realtà del territorio ionico per la prima giornata del mare Gianni Sebastio Divulgare la cultura del mare ricchezza e bellezza di Taranto la prima giornata del mare dal titolo Taranto e il mare dalla bellezza alla consapevolezza vede la partecipazione di 26 associazioni in realtà che hanno condiviso di esprimere il concetto che le potenzialità e la bellezza della città dei due mari debbano trovare la consapevolezza e la conoscenza del cittadino dunque coinvolgere i cittadini anche quelli emigrati per ragioni di lavoro la manifestazione è stata ospitata dal castello aragonese il programma articolato previsto stand delle 26 associazioni con spettacoli dimostrazioni laboratori e la presentazione di libri per adulti e ragazzi sappiamo benissimo che la bellezza di Taranto è data dal suo panorama dal suo mare la manifestazione ha a che fare col mare tutte queste associazioni che hanno aderito in qualche maniera sono legate al mare dai diving alle vogatori ma anche attività culturali e sono tutte dedicate al mare il mare di Taranto che può essere volano di sviluppo per la città di Taranto Restiamo nel Tarantino perché l'azienda Niteco di Montemesola in occasione della festa per i suoi dieci anni di attività ha presentato una innovativa tecnologia per la realizzazione delle lampade LED ci dice di più Leo Spalluto da Montemesola arriva un nuovo prodotto innovativo lampade stradali resistenti a tutto e agli agenti atmosferici realizzate anche dalla plastica riciclata e persino dai tappi di bottiglia si chiama Lorelux la nuova tecnologia messa a punto da Niteco per la realizzazione delle scocche delle nuove lampade a LED per l'illuminazione stradale industriale l'azienda di Montemesola già start-up pluripremiata realizza le lampade con polimeri di plastica e forme diverse già installate a Sirmione sul Garda e a Vieste la tecnologia Lorelux è stata presentata presso l'impianto di Niteco a Montemesola durante l'evento di festeggiamento dei dieci anni di attività dell'azienda tra gli ospiti la presidente di Confindustria Salvatore Toma dieci anni di passione dieci anni di lavoro dieci anni di ricerca e sviluppo e Lorelux è il coronamento di dieci anni di tutto questo lavoro e tutta questa ricerca in nuovi materiali e in nuove tecnologie per i corpi delle lampade siamo passati a un polimero il polietilene e il polietilene chiaramente è molto resistente e non solo e non soffre di corrosione dei metalli o altro quindi può essere montato ovunque da sempre insomma siamo dedicati all'innovazione come volano di crescita dell'economia sia locale che nazionale puntando oggi come non mai diciamo su materiali riciclabili nel momento in cui raggiungeremo nel nostro territorio 50-100 niteco vuol dire che il nostro territorio sta cambiando la cultura d'impresa 40 anni di rinascita e l'impegno degli alcolisti anonimi in tutta la Puglia Bari riavvolge il nastro di una storia ricominciata nel 1982 guardando al welfare condiviso e senza abbassare la guardia siamo partiti tutti insieme da lontano e siamo arrivati molto lontano sono 40 anni è un grande anniversario è una cosa da ricordare perché ci dovrà essere anche un cinquantesimo e quindi in questo senso noi chiediamo a tutti di aiutare le associazioni come questa come alcolisti anonimi come gli alanon che sono il gruppo dei familiari a come dire a recuperare le persone ad aiutare a recuperare le persone per un problema che sta diventando sempre più invasivo nella nostra cultura 40 anni di rinascita come il gruppo attivo nel capoluogo e come l'obiettivo dell'attività degli alcolisti anonimi a Bari ma anche nel resto della Puglia una storia cominciata nel 1982 nella palazzina dell'ex goccia di latte in piazza Umberto e soprattutto fatta di tanti tasselli quante sono le esperienze di chi si è avvicinato nel tempo anche attraverso il metodo dei cosiddetti dodici passi quelli che separano chi si approccia al percorso dalla ritrovata serenità che poi può condividere oggi si parla di persone il concetto di persone è molto importante nel superare la lotta alle dipendenze a volte il mondo dell'associazionismo sopperisce anche a delle lacune del pubblico quindi la nostra presenza qui è quella proprio non solo per testimonare la vicinanza ma per ringraziare della loro meritevole attività alcolisti anonimi dove è giusto che l'anonimato venga mantenuto perché permette a loro di raccontarsi di raccontare le loro esperienze e di fare anche virtudi delle stesse invece non deve rimanere assolutamente anonimo il problema dell'alcolismo è un problema che deve essere affrontato sviscerato e analizzato per impedire che possa diventare un vero problema sociale un'altra dipendenza adesso quella quella di Claudio e Leonardo e della comunità Emanuele di Lecce Barbara Magnani io credo che si può uscire dalla dipendenza perché qui soprattutto in questa comunità si combatte non solo la dipendenza in se stessa ma anche si impara a conoscere se stessi come persone quindi a capire che cosa si porta ad essere un tossicodipendente quello che mi sento di dire è di chiedere aiuto in vari modi magari magari non diretto o indiretto di chiederlo sempre di non stancarsi mai di chiedere aiuto uscire da una dipendenza si può e Claudio e Leonardo ne sono l'esempio entrambi hanno cominciato a fare uso di sostanze stupefacenti da giovani iniziando per gioco facendosi trascinare dal gruppo complici anche momenti difficili della propria vita sono caduti nell'uso della cocaina fino a toccare il fondo ma lì qualcosa è scattato in loro e hanno deciso di chiedere aiuto e nella comunità Emanuel stanno ritrovando se stessi e stanno ritornando a vivere adesso mi sento bene forte mi sento ho voglia di stare tra la gente di conoscere di imparare tante tante cose decidendo di fare un percorso del genere in comunità devi convivere con tante persone quindi puoi imparare un po' di tutto da qualsiasi compagno Come vedi il tuo futuro? Interessante Il passato me lo ricordo il presente lo sto vivendo nel migliore di modi e penso che il futuro sia il frutto del mio presente Cambia la vita durante il lockdown da un negozio di elettronica al richiamo della terra e la storia che adesso ci racconta Gianmarco Sansolino Daniele 36 anni è una scelta che gli cambia la vita ha una avviata e remunerativa impresa in centro città un negozio di elettronica durante il lockdown l'illuminazione o meglio il richiamo alla terra lascia tutto e sceglie questo fazzoletto di terra alla periferia di Taranto ci troviamo a San Donato ci ha fatto un'impresa agriavicola oggi sono quasi due anni di attività E' remunerativa? Allora sicuramente è impegnativa remunerativa diciamo che sta iniziando ad esserlo ma sicuramente è molto piacevole Ecco lui è uno dei nuovi arrivati Sì sì lui è figlio di di ambra il nostro pastore mare in mano che tiene sempre sotto controllo Quasi un piccolo mondo popolato da animali felici come l'asinella stella che ha parturito nei giorni scorsi si coltivano gli ortaggi ma le vere protagoniste sono le galline e non solo quelle classiche coccolate al mattino persino dalla musica classica perché secondo alcuni studi farebbe bene Sono galline che fanno le uova azzurrine le uova marrone color cioccolato questi sono dei polli giganti asiatici si chiama brama le muroseta che è una delle più particolari al mondo perché ha prima di tutto delle piume setose hanno la pelle nera ed è l'unica razza al mondo che ha cinque dita più avanti invece abbiamo delle galline con gli organi neri sono indonesiane qui molti bambini divertendosi imparano ci arrivano con le famiglie oppure attraverso le scuole fargli sporcare le mani con la terra concimare piantare ed è tutto per questa edizione dopo la pubblicità invece le notizie sportive restate con noi rimani connesso scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud trovi tutte le news i programmi in streaming e on demand e le pagine social